Amici come sempre è un vero piacere ritrovare la vostra compagnia quest'oggi e se dovete sostituire, acquistare la vostra auto, cercate un mezzo commerciale o avete richieste particolari, Nucco Cari in corso alla mano 151 Rivoli è pronta a servirvi al meglio con disponibilità illimitata e a proposito di questo vado subito a salutare Guido, puntata speciale, vero? Ciao, ben ritrovato. Certo, senz'altro, solo per voi in questa puntata andiamo a scegliere delle vetture dai 700 ai 1000 euro di sconto, non perdete questa puntata assolutamente. Molto bene, sono oltre 200 le vetture disponibili in pronta consegna ma Nucco Cari ricordiamo che significa anche servizi, a tale proposito salutiamo Diego che ce li ricorda, ciao ben ritrovato. Ciao Palma, ciao a tutti a casa, assolutamente sì, Nucco Cari vuol dire anche officina interna con servizio gomme e carrozzeria, ovviamente servizio noleggio e non dimentichiamo per voi i finanziamenti e tasseggio volati e l'assicurazione interna. Bene, si preannuncia senza dubbio una puntata imperdibile come diceva appunto Guido, quindi carte e penna alla mano e seguitici con attenzione. E cominciamo con il chilometrizzare con questa 500 L 1300 Multijet in allestimento Popstar, 85 cavalli, è un veicolo completo di cerchi in lega, fendi in nebbia, naturalmente idroguida, ovviamente c'è il climatizzatore, con i comandi al volante e bluetooth. È un veicolo che proponiamo con 5 anni di garanzia della casa madre e con un 23% di sconto rispetto al listino a euro 16.900 euro, attenzione perché è un veicolo a chilometrizzare di un soli un mese. Continuiamo con casa Fiat con questa New Panda 1300 Multijet 4x4, allestimento completo quindi agli interni in pelle, ovviamente fendi in nebbia, ai cerchi bruniti, insomma allestimento più completo che proponiamo come chilometri zero a 15.900 euro. Abbiamo disponibile anche a chilometri zero un due ruote motrici benzina da 5 posti che proponiamo a 8.990 euro. E su casa Alfa Romeo, ultima Giulietta disponibile a chilometri zero, allestimento Distinctive 1.605 cavalli, completa di sensore di parcheggio, cerchi in lega, clima automatico, ve la proponiamo a 18.900 euro. E per le aziende ali cominciamo con questo Volvo V50, un veicolo del 2012 con soli 20.000 chilometri e 16.900 euro. Sempre del 2012 questo Fremont, un veicolo 2.000 diesel da 140 cavalli, lo proponiamo a 18.600 euro. Attenzione al prezzo per questo Brera, un veicolo 3.2 con 26.000 chilometri a 9.900 euro. Ultimo per le aziende ali, questo Land Rover Discovery, un veicolo con soli 50.000 chilometri, vedete la Newco Carri e scoprite nel prezzo. Signori, se avvicinano l'estate, una Mazda 6 Turbo Diesel, una vettura del 2011, solamente 15.000 chilometri, una settimana fa era vostra a 17.350 euro, oggi 1.000 euro di sconto, a 16.350 è vostra. Signori, Fiat Punto Classic 1.2 5 Port, una vettura del 2007 che ha percorso solamente 53.000 chilometri, la portate via a 157 euro al mese, comprensivi di due anni di furto incendio e estensione garanzia. È una vettura l'ideale per impianti GPL. Signori, Fiat Bravo 1.6 Multijet 105 cavalli, la versione Dynamic, quindi è una versione molto accessoriata, dal climatizzatore a solo stesso LSP, una vettura del 2011, pensate, con solamente 25.000 chilometri. Una settimana fa la portavate via a 10.300 euro, oggi è vostra a 9.400 euro. Signori, 700 euro di sconto, sì avete capito bene, 700 euro di sconto su questa Renault Clio 1.2 16 valvole con l'impianto GPL, quindi una vettura ecologica a tutti gli effetti. Una vettura che ha un anno di vita, una vettura che ha percorso solamente 13.000 chilometri, quindi una vettura che portate via oggi a 9.900 euro. È vostra. Molto bene amici, avete visto un mese sicuramente imperdibile per quanto riguarda i vantaggi e gli sconti. Ve lo ripeto, dai 700 ai 1.000 euro sulle vetture presentate, non soltanto ampia scelta di prodotto, ognunque care sinonimo di affidabilità e garanzia sugli acquisti, ma ora siamo in chiusura e con Diego un'ultima offerta alla seconda. Ma certo, Pamma, classe A, 180 diesel, un veicolo del 2008 con soli 40.000 chilometri, 11.500 euro. Non soltanto offerte, tantissimi servizi e con Guido vogliamo ancora ricordare l'importanza del sito dove troverete tutto il resto dell'assortimento e naturalmente l'indirizzo dove accorrere numerosissimi. Perfetto, automobilidalmondo.com, l'indirizzo è corso alla mano, 151 naturalmente a Rivoli. Un ringraziamento a Diego e Guido, un ringraziamento a voi, ricordate di visitare il nuovo sito Motori TV e di scrivervi gratis alla newsletter per ricevere gratuitamente ogni settimana il giornale di autooccasioni online. Alla prossima!